Il mio primo pensiero quando mi si è presentata la divisione Yachting è stato quello di trovarmi di fronte ad una grande opportunità. Il target e gli infelters prime e quindi alto si avvicina molto a questo mondo e per noi è molto importante quindi offrire a questi clienti un servizio di unicità molto forte, in particolar modo nell'ambito locale. Ecco perché la grande collaborazione tra queste due divisioni è molto importante e lo sarà sempre di più in termini di efficacia e in un momento in cui magari ci fosse anche una divisione locale all'interno del nostro territorio. Il nostro profilo è internazionale, questo ci permette di rimarcare tutto questo concetto e di dare quella competenza, passione ed esclusività ai nostri clienti che contraddistinguono i nostri valori and 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 and. La sinergia quindi è molto importante, abbiamo già avuto un'opportunità di collaborazione molto forte e ci accorgiamo che nel presentare il prodotto AIME per la divisione Yachting anche attraverso un materiale molto importante rilasciato dai nostri colleghi, questo faccia la differenza enorme nei confronti di tutte le strutture immobiliari real estate presenti nel nostro territorio ma che non hanno a disposizione questo tipo di servizio.